Anche qua i numeri tornano perché se voi con le persone fate il conto economico della sua vita, fra dieci anni l'appartamento dove sei di 60-80 metri quadri diventa un attico da 200-250 perché il tuo stipendio si muove in questa maniera, i tuoi margini sono questi e tu sei contento perché oggi gestisci tre agenti, domani ne gestirai 25 e via dicendo gli fai il film. Ma dobbiamo diventare imprenditori, cioè dobbiamo metterci in testa di andare in cabina di regia. La cabina di regia è il posto giusto per l'imprenditore.